Sono passati molti anni piene di guerra e di quello che si usa a chiamare la storia. Spinto qua e là all'avventura non ho potuto finora mantenere la promessa fatta lasciandoli ai miei contadini di tornare tra loro e non so davvero se e quando potrò mai mantenerla. Ma chiuso in una stanza e in un mondo chiuso mi è grato di andare con la memoria a quell'altro mondo serrato nel dolore e negli usi negato alla storia e allo stato eternamente paziente a quella mia terra senza conforto e dolcezza dove il contadino vive nella miseria e nella lontananza la sua immobile civiltà su un suolo arido. Alla presenza della morte Noi non siamo cristiani, essi dicono. Cristo si è fermato a eboli. Cristiano vuol dire, nel loro linguaggio, uomo. È la frase proverbiale che ho sentito tante volte ripetere. Nelle loro bocche non è forse nulla più che l'espressione di uno sconsolato complesso di inferiorità. Noi non siamo cristiani, non siamo uomini, non siamo considerati come uomini, ma bestie, bestie da soma e ancora meno che le bestie, i fruschi, i fruschi ricchi che vivono la loro libera vita diabolica o angelica. Perché noi dobbiamo invece subire il mondo dei cristiani, che sono di là dall'orizzonte, e sopportarne il peso e il confronto. Ma la frase ha un senso molto più profondo, che come sempre, nei modi simbolici, è quello letterale. Cristo ci è davvero fermato a eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare, e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l'anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia. Cristo non è arrivato, come non erano arrivati i romani, che presidiavano le grandi strade, e non entravano fra i monti e nelle foreste, né i greci, che fiorivano sul mare di Metaponto e di Sibari. Nessuno degli arditi uomini di Occidente ha portato qua giù il suo senso del tempo che si muove, nella sua teocrazia statale, nella sua perenne attività che cresce su se stessa. Nessuno ha toccato questa terra, se non come un conquistatore o un nemico, o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina. Oggi, come tremila anni prima di Cristo, nessun messaggio umano o divino si è rivolto a questa povertà refrattaria. Parliamo un diverso linguaggio. La nostra lingua è qui incomprensibile. I grandi viaggiatori non sono andati di là dai confini del proprio mondo e hanno percorso i sentieri della propria anima e quelli del bene e del male, della moralità e della redenzione. Cristo è sceso nell'inferno sotterraneo del moralismo ebraico per romperne le porte nel tempo e sigillarle nell'eternità. Ma in questa terra oscura, senza peccato e senza redenzione, dove il male non è morale ma è un dolore terrestre che sta per sempre nelle cose, Cristo non è disceso. Cristo si è fermato a Eboli.